Film in città, si parte, primo Ciac a Palazzo Fanner, conferenza stampa in comune per i primi dettagli organizzativi, atteso l'arrivo di Dustin Hoffman ed Elenant, le riprese termineranno a febbraio. Ecco i geometri del futuro e i professionisti hanno incontrato i ragazzi dell'istituto comprensivo Lucca VII nell'ambito di un progetto promosso dal Collegio dei Geometri. L'arma festeggia i cento anni del carabiniere Filvio Infante, anche il comandante provinciale Arturo Sessa ha voluto incontrare l'ex militare nella sua abitazione di Gallicano. A Lucchese ad Arezzo cerca punti d'oro, rossoneri di scena sabato sera sul terreno degli Amaranto di Indiani, Gorgone ripropone la formazione tipo al netto degli infortunati, circa 200 i tifosi al seguito della Pantera. L'ottolinea al trittico Versilia al riscatto nella B1 di Volle inizia un mini tour de forze per le bianconere di Scena Firenze contro la Liberti e Fording, due abbordabile gara casalinga per le bianco-azzurre contro le Umbre del Fossato. Ben trovati a questa nuova edizione del TG9. In primo piano torniamo a parlare del film che si girerà a Lucca in centro storico tra pochi giorni, i primi dettagli in una conferenza stampa a Palazzo Orsetti. Ci siamo davvero. Entro pochi giorni iniziano a Lucca le riprese del film di Peter Greenaway con Dustin Hoffman ed Ellen Hunt. I primi dettagli organizzativi sono stati illustrati a Palazzo Orsetti, alla presenza tra gli altri dei produttori Philip Lee e Ada Bonvini. Sopralluoghi e riprese di prova sono già state effettuate nei giorni scorsi. Il primo ciac sarà ospitato a Palazzo Fanner, poi sono previste altre 24 location, tutte nel centro storico. Le riprese inizieranno a dicembre, non abbiamo ancora la data di inizio ufficiale, la stiamo aspettando. In tutto le settimane di lavorazione saranno sette. L'obiettivo è chiudere entro febbraio per poter presentare il film al Festival di Venezia 2024. Sul cast i produttori hanno mantenuto un formale top secret ma è confermata la presenza dei due premi Oscar che durante le riprese soggiorneranno in centro storico. Tra gli attori italiani coinvolti si parla di Laura Morante, circa 600 le comparse che saranno utilizzate. Sul fronte della logistica la base della produzione è stata localizzata all'ex caserma Lorenzini. In città ci sarà qualche inevitabile disagio, piazze e strade dovranno essere chiuse per consentire le riprese, ma il gioco vale la candela. La cosa veramente importante è che però la città risalterà in tutta la sua bellezza, la piazza San Michele, la via dei Fossi, l'area del carretto, fino a una scena sulle torre guinigi in cui ci sarà un attore che si arrampica fin sulla vetta. Quindi riteniamo che poi alla fine questo film rimanga e quindi qualche settimana di disagio possa essere sopportata. Sarà il primo film in cui Lucca sarà davvero protagonista. Questo è un percorso che è iniziato dieci anni fa, io di questo ringrazio il Lucca Film Festival e la Fondazione Cassa di Risparmio che nel 2013 portarono Peter Greenaway e Lucca, di lì fu gettato un seme, Peter Greenaway si innamorò della nostra città e siamo arrivati a oggi a raccogliere i frutti di quel seme gettato. E della città si è innamorato subito anche il produttore Philip Lee. Devo dire che Lucca l'ho vista per la prima volta su internet, la città delle mura e così ho capito dove stavo per recarmi e quando sono arrivata a Lucca l'altro giorno, ho fatto subito una passeggiata sui 4 chilometri delle mura, è stato bellissimo. Passiamo alla cronaca, i carabinieri hanno arrestato e portato in carcere un 27enne cittadino italiano residente a Capannori. L'uomo è sospettato di aver commesso a Lucca lo scorso 23 novembre una rapina in abitazione in danno di una cittadina romena 34enne. Secondo le indagini la vittima che si trovava in città per trascorrere qualche giorno in una casa presa in affitto aveva ricevuto la visita del 27enne che aveva conosciuto attraverso un sito di incontri. Dopo aver trascorso circa un'ora insieme, il 27enne mentre stava per andare via ha mostrato alla donna un coltello a serramanico intimandole di consegnare tutto il denaro che aveva in casa. A questo punto la 34enne impaurita consegnava all'uomo la somma di 270 euro e l'uomo poi si dileguava a piedi per le vie cittadine. Le immediate indagini svolte dai carabinieri di San Concordio e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lucca hanno consentito di identificare l'autore del fatto che è stato anche riconosciuto dalla vittima. Cambiamo decisamente argomento, incontro a scuola tra i geometri del Collegio di Lucca e i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Lucca 7. GameCut, il progetto scolastico promosso dal Collegio dei Geometri della provincia di Lucca e realizzato in collaborazione con le scuole CAT del territorio, sbarca l'Istituto Comprensivo Lucca 7 per una giornata di orientamento e formazione. Dopo il successo riscosso in altre scuole del territorio, i professionisti hanno fatto conoscere agli studenti delle medie il proprio lavoro, introducendoli anche ai rudimenti del mestiere utilizzando il popolare videogioco Minecraft Edu. Un'occasione per far incontrare il mondo della scuola con quello del lavoro, stimolando l'apprendimento tra i più giovani anche attraverso le opportunità offerte dalle tecnologie che uniscono valore educativo e ludico. Attraverso poi il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole superiori, la lezione verrà approfondita sul campo con l'elaborazione di un progetto di riqualificazione di un'area pubblica. Una proposta per il territorio anche in un momento come quello attuale, segnato dalle incertezze legate al piano operativo. Riteniamo che il piano sia molto rigido e restrittivo, quindi noi aspettiamo anche grazie all'accoglimento delle osservazioni nostre fatte anche dagli altri ordini professionali una maggiore elasticità del piano e che sia più consono a quelle che sono poi ora le direttive e le idee che sono poi in tutta Europa, ovvero di poter trasformare in case meno energie o le case green i nostri fabbricati, anche quelli di natura storica. Certamente non chiediamo nuove costruzioni, ormai bisogna andare tutto nell'ottico del riuso e la riqualificazione del territorio, quindi aspettiamo che il nuovo piano avrà queste caratteristiche. Oltre 800 studenti hanno partecipato al Flash Mob in piazza San Michele a Lucca, promosso dall'area scuola di Special Olympics in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità. L'iniziativa è stata organizzata con il patrocinio e la collaborazione dell'ufficio scolastico provinciale del Comune di Lucca. Gli studenti si sono scatenati ballando su diverse musiche anche per celebrare il 40esimo anniversario di Special Olympics Italia. La giornata è stata dedicata ad una riflessione partecipata sul tema dei diritti delle persone con disabilità. Erano presenti tra gli altri gli assessori del Comune di Lucca Barsanti e Testa Ferrata e Claudio Oliva nell'ufficio scolastico interprovinciale. Parliamo adesso di Welfare Culturale. C'è stato un incontro in San Micheletto. Cosa si intende per Welfare Culturale? Quale contributo può dare all'intera comunità? Questi sono stati alcuni dei numerosi temi affrontati in un convegno organizzato dalla Fondazione per la Coesione Sociale nel complesso di San Micheletto, in collaborazione con Centro di Ricerca Maria Eletta Martini, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Promo PA Fondazione. Be Humans, l'apporto del welfare culturale al benessere, alla salute e allo sviluppo di comunità. Questo è il titolo dell'incontro. Il welfare culturale è un nuovo modello integrato di promozione del benessere e della salute degli individui e delle comunità, attraverso pratiche fondate sulle arti visive, performative e sul patrimonio culturale. Su questa base si sono confrontati i vari relatori, dopo un'introduzione che ha visto la partecipazione tra gli altri del sindaco di Lucca Mario Pardini, di Sara D'Ambrosio per la provincia, Lucia Corrieri Puliti, presidente della Fondazione Coesione Sociale, Raffaele Domenici, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e tramite un videomessaggio Serena Spinelli, assessore al sociale della Regione Toscana. Tanti in seguito gli interventi incentrati sulle strade da intraprendere per dare applicazione concreta a questi propositi. L'incontro è stato anche l'occasione per presentare le azioni specifiche che verranno articolate su questo tema da Fondazione Coesione Sociale e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca nel corso del 2024. Una mappatura e ricerca sullo stato dell'arte, un percorso di formazione, la pubblicazione di un bando specifico per sostenere progetti a tema welfare culturale e molto altro. Nell'ambito delle iniziative promosse da Comune e Commissione Pari Opportunità di Capannuri in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, nella piazzetta antistante il mercato di Marlia è stata inaugurata una panchina rossa dedicata a tutte le donne vittime di violenza. L'iniziativa è stata promossa in collaborazione con SPI-CGL e il coordinamento donne SPI-CGL della provincia di Lucca. Ci spostiamo adesso a Gallicano per un compleanno particolare, i 100 anni di un ex carabiniere. 100 anni tondi tondi, portati benissimo, portamento da giovanotto e mente lucida. Stiamo parlando dell'ex carabiniere Fulvio Infante che per i suoi primi 100 anni, oltre che dai figli Roberto e Amelia, è stato festeggiato anche dagli ex colleghi dell'area. Il comandante provinciale di Lucca, colonnello Arturo Sessa, il comandante della compagnia carabinieri di Castelnuovo, maggiore Biagio Oddo, il comandante della stazione di Gallicano, maresciallo Davide Martinelli, hanno incontrato il vispo centenario presso la sua abitazione a Gallicano ed hanno portato l'abbraccio dell'intera comunità dei carabinieri della provincia. Ad unirsi ai festeggiamenti anche una rappresentanza dei carabinieri in congedo dell'Associazione Nazionale che si sono stretti in un caloroso augurio a Fulvio che per 5 anni, dal 42 al 47, ha prestato servizio nei carabinieri reali. Per lui anche un omaggio è arrivato direttamente dal Comando Generale dell'Arma di Roma per ricordare il legame perenne con la grande famiglia dei carabinieri. Congedatosi nel 1947, Fulvio mostra ancora con orgoglio le foto di quegli anni e i documenti matricolari che conservano con grande nostalgia. Proseguono gli annunci degli ospiti della prossima edizione del Lucca Summer Festival. Il prossimo 19 luglio ad esibirsi sul palco di Piazza Napoleone sarà la pop star libanese Mika che presenterà i brani del suo ultimo album che è uscito proprio in questi giorni. Quella di Lucca sarà l'unica data italiana del tour europeo di Mika. Andiamo a Banni di Lucca adesso per la prima edizione dello Shelley Project. Ha preso il nome di Shelley Project il contest letterario che si è svolto a Banni di Lucca che ha messo alla prova sotto forma di sfida cinque autori proprio nei luoghi frequentati da nomi illustri come George Gordon Byron conosciuto come Lord Byron o anche lo stesso Percy B. Shelley e la consorte Mary Shelley, scrittori, politici, poeti illustri che hanno frequentato Banni di Lucca. Il progetto fa parte del programma delle manifestazioni collegate ad Halloween Celebration ideata da Stefano Nannizi. Lo Shelley Project è un form and contest che mette a confronto cinque scrittori riproponendo quello che fu l'esperimento sul lago di Ginevra tra Byron e i suoi compagni dove nacque poi la prima traccia della scrittura del Frankenstein da parte della scrittrice Mary Shelley. Quest'anno è stata una puntata a zero, è stato un confronto fra cinque scrittori. Il prossimo anno partirà la prima edizione dello Shelley Project che prevederà tre categorie, scrittori professionisti, scrittori non professionisti e scuole superiori. In questo numero zero del progetto si sono confrontati gli scrittori sauro donati, Alessio Del Debbio, Alice Cappagli, Franco Amato, Maria Pia Michelin. Il Requiem per Puccini nella chiesa di Santa Maria Forisportam. Sarà ancora una volta la monumentale chiesa di Santa Maria Bianca Forisportam di Lucca ad ospitare il tradizionale concerto organizzato dal gruppo corale di Santa Felicità di Lucca, Requiem per Puccini, dedicato proprio al grande maestro a 99 anni dalla sua morte. Il concerto, che coinvolge un parterre di musicisti importanti, propone nella prima parte un omaggio ad uno dei più grandi musicisti al mondo, il lucchese Francesco Saverio Geminiani, proponendo due parti del concerto grosso composto nel 1726, il numero uno e il numero dodici, conosciuto come La Follia, brano caratterizzato dal gioco tra l'accompagnamento e il canto, eseguito da viola e violini, ed è certamente quello più conosciuto del repertorio del virtuoso musicista lucchese. Poi ci sarà l'esecuzione della messa concertata con i violini, scritta dal nonno di Giacomo Puccini, Giacomo Puccini Senior, per concludere poi il programma con il Requiem, questa volta però opera del grande maestro, con la partecipazione dei cantanti Nunzia Fazzi, Michela Mazzanti, Adriano Gulino, Nicola Farnesi, e l'insieme vocale Nova Armonia e l'ensemble da camera Santa Felicità, sotto la direzione artistica di Silvano Pieruccini. È tutto per la prima parte dell'ETG, adesso c'è la pubblicità, subito dopo le notizie dello sport.